ancora un saluto amici da massimo foghetti per la rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 12 maggio 2022 ebbene chi vuole vedere l'alba al mattino deve alzarsi sempre più presto perché il sole sorge in un'ora veramente molto molto mattiniera sorge alle 5 45 tramonterà oggi alle 20 e 24 iniziamo la nostra trasmissione con il santo del giorno e vediamo che i santi oggi sono due sono i santi nereo e achilleo abbiamo parlato nei giorni scorsi della festa di santa domitilla e l'abbiamo tirata in ballo i santi nereo e achilleo erano due pretoriani al servizio di nerone che furono convertiti al cristianesimo da san pietro passarono allora al servizio di flavia domitilla nobile romana nipote del console clemente flavio parente di domiziano scoperti cristiani furono dapprima esiliati a ponza insieme a domitilla e poi furono condannati a morte perché non volero rinunciare alla loro fede cristiana e furono decapitati a terracina a roma ancora esiste una chiesa intitolata appunto al loro titolo ai santi nereo e achilleo è una lapide di san damaso il papa il papa damaso ancora si conserva nelle catacombe di domitilla è appunto una lapide che conserva i nomi di santi achilleo e nereo ed ora diamo un'occhiata al tempo vediamo che l'estate nonostante che sia primavera l'estate avanza ieri una bellissima giornata con gente che prendeva il sole al mare bel tempo sulle marche con un cielo in prevalenza sereno il clima è molto mite le temperature massime sono in ulteriore aumento raggiungeranno punte addirittura di 29 gradi un balzo considerevole delle temperature rispetto ai 21 22 23 gradi dei giorni scorsi siamo dunque una primavera estate così possiamo considerarla i 20 ispireranno con una tendenza media da est sud est sulle coste e da ovest nord ovest nell'introterra ed ora abbiamo il corriere adriatico per quanto riguarda la pagina di fano vediamo che le aperture di entrambi i giornali sia del carlino che del corriere adriatico sono dedicate ad un'iniziativa che ha preso l'amministrazione comunale in merito ai parcheggi a pagamento che tra breve entreranno di nuovo in vigore al lido e in sassonia sappiamo che per tutta la stagione estiva fino da giugno poi a settembre i parcheggi che sono in viale sul viale del lido e poi anche sul viale adriatico eccetera della sassonia sono diventeranno a pagamento vediamo subito il titolo sosta torna il ticket nella zona mare ma pure nuovi stalli e spazi pedonali tutti gli interventi le vie coinvolte per migliorare l'utilizzo dei parcheggi e lo scorrere della viabilità questa era una decisione che l'anno scorso ha provocato anche delle proteste perché i residenti erano costretti a parcheggiare negli stalli vicini alla loro abitazione e spesso non c'era posto per quanto riguarda la sosta invece quest'anno potranno parcheggiare in tutte le altre zone avendo a disposizione un abbonamento a prezzo agevolato dunque ci sono iniziative interessanti anche per quanto riguarda l'aumento degli stalli di sosta in sassonia appunto tutte le spiegazioni tutte le novità inserite in quest'articolo appunto scritto oggi da andrea amaduzzi e poi abbiamo la conferma del presidente della banca di credito cooperativo romualdo rondina alla presidenza per un altro trienio rondina alla unanimità resta alla guida della bcc di fano il numero 2 sarà luciano radici dopo che non si è ancora non si è più presentato eh magnanelli franco magnanelli che era il vicepresidente infanto è entrato suo figlio giacomo magnanelli uno dei rappresentanti delle nuove leve dei giovani che possono anche contribuire agli indirizzi della bcc di fano destino segnato purtroppo per la materna statale di meta auriglia il direttore generale dell'ufficio scolastico marco ugo felisetti ha incontrato ieri gli amministratori fanesi ma ha detto no non è possibile che quest'anno che il prossimo anno scolastico la scuola resterà in funzione nella frazione felisetti decreta la chiusura nel 2023 ma accetta di verificare il numero di iscrizioni a gennaio c'è una porta aperta che l'assessore mascarin è riuscito a tenere appunto a suo uso per quanto riguarda un probabile chissà auspicato aumento delle iscrizioni e chissà se si verificherà due belle iniziative due belle iniziative sono state presentate nella giornata di ieri si tratta del gran galà dell'olio che avrà due giornate a disposizione quest'anno il 21 e il 22 maggio il 21 ci saranno le premiazioni dei migliori produttori di olio extravergine di oliva a livello nazionale e internazionale perché la sfera comprende tutto il mediterraneo alla pinacoteca di san domenico e poi il giorno dopo ed è questa la novità verrà organizzato ex polea la mostra appunto dei migliori oli prodotti insomma a livello comprensoriale due giorni di manifestazioni assaggi e premi per i grandi produttori due belle iniziative che qualificheranno fanno ancora una volta dal punto di vista in gastronomico con una promozione turistica importante economica e turistica e di qualità e ieri a presentarla oltre agli organizzatori di olea il presidente renzo ceccacci poi il segretario giorgio solcinelli c'erano anche il vice presidente della regione marche mirco carloni c'era l'assessore al turismo etienne lucarelli c'era anche la presidente del consiglio comunale carla cecchetelli l'altra iniziativa invece riguarda l'assessorato alle pari opportunità si tratta della quinta edizione di impronte femminili una serie di incontri di laboratori di proiezioni cinematografiche di mostre che si dilungheranno da oggi fino al fino al vediamo un po vediamo un po credo a luglio mi sembra sì ci sono tantissimi incontri oltre 15 incontri che verranno organizzati non solo a fano ma anche in diverse località dell'entroterra un totale di 18 incontri appunto la serie è stata presentata ieri dall'assessore sala cucchiarini insieme poi ad altre tante persone che hanno così dato l'avvallo alla loro il loro avvallo a questa serie di manifestazione che tende ancora una volta sensibilizzare la persona alla tutela dei diritti delle diritti per quanto riguarda le pari opportunità ovviamente per quanto riguarda la condizione femminile ma condizione di tutti e si parlerà di diversi temi non escluso quello della immigrazione e oggi alle 18 si inaugura con un incontro alla libreria mondadori con un reportage dal guatemale è un personaggio da eccezione sarà presente in questa serie è monica guerritore che sarà presente al cinema masetti dove presenterà appunto un suo film che ha interpretato le nuove regole della sosta 20 centesimi per 40 minuti a fossombrone in viale europa vicino alle poste il sindaco spiega le ragioni della scelta la decisione è d'intesa assunta con il comando della polizia locale non mi sono nascosto dietro a nessuno come qualcuno ha voluto insinuare ha detto appunto il sindaco massimo berloni e spiega appunto le ragioni perché è stato assunto questo provvedimento e veniamo anche la pagina di senigallia dove vediamo che sul lungomare da vinci si cambia e si ritorna al doppio senso parziale però di circolazione di marcia c'è chi chiede di allungarlo di qualche centinaio di metri o del tutto il sindaco è possibilista e dice in futuro si vedrà vediamo anche qualche pagina pesarese del corriere adriatico dove risalta la polemica per quanto riguarda l'uso del vitifrigo tra la tecno casa che vi deve organizzare una sua convention e invece le necessità sportive della vl che immaginava che la vl dopo un decennio di risultati non certo esaltanti quest'anno invece fosse risalita in classifica con veramente delle gare entusiasmanti ebbene c'è un incontro importante che si terrà sabato 21 però insomma un incontro che collide e quindi viene viene intralciato dalla necessità della tecnocasa una necessità che era stata già codificata di fare il proprio incontro però il sindaco insiste esiste un contratto che dice quando la vl ha necessità di fare una partita alla vitifrigo è lei che prevale e quindi gli altri devono cedere insomma è l'aspest in questo momento che gestisce appunto la struttura che si trova in difficoltà vedremo come andrà a finire ripascimenti c'è l'appalto la spiaggia sarà rimpolpata a pesaro una società di ravenna si è giudicata all'intervento tanto atteso dai concessionari per riguadagnare quei metri di spiaggia che l'erosione durante l'inverno si è mangiato è una ditta ravennate la mmt macchine movimento terra che si è giudicata all'opera con un ribasso delle 2,5 per cento circa 60 mila euro sulla cifra stanziata dalla regione Marche circa 80 mila euro per il ripascimento e poi vediamo come per la stazione ferroviaria c'è un restyling importante ci sono 10 milioni da utilizzare un investimento considerevole il comune ha incontrato le ferrovie dello stato e i lavori dovrebbero essere finiti per il 2024 con pesaro capitale della cultura la riqualificazione procede parallela al dibattito dello spostamento della ferrovia dalla costa un pochino più in arretrato verso l'entroterra la stazione di pesaro e l'area circostante avranno un restyling importante una nuova integrazione con i servizi urbani e per quanto riguarda il dettaglio di queste opere diamo un'occhiata è troppo lungo l'articolo per leggervelo tutto però vi posso anticipare che nel dettaglio il progetto prevede la riqualificazione del fabbricato che ospita la stazione evidentemente e poi la modernizzazione dell'atrio di ingresso degli spazi per l'attesa e delle aree comuni l'abbattimento delle barriere architettoniche uno dei primi una delle prime necessità che viene evidenziata e poi ancora il restyling delle pensiline il sottopasso di collegamento tra i binari sarà rinnovato a fronte di un cesso alla stazione lato sud e insomma e via e via dicendo insomma sono diversi gli interventi che verranno effettuati bici incroci a rischio colorati il comune frena l'iter è complesso l'idea è di gambini della lista prima c'è pesaro il precedente fa riferimento alle strisce bocciate a mondolfo sarebbe bello avere delle intersezioni colorate negli incroci più pericolosi affano è stato fatto per quanto riguarda la pista ciclabile che da santosso arriva in centro storico perché poi attraversare gli incroci in bicicletta quando si percorre una pista ciclabile se non c'è una direttiva che dà il privilegio che dà la precedenza le biciclette bisogna scendere bisogna poi fare attenzione insomma è una cosa disagevole e appunto ora si cerca di fare un itinerario continuo che possa privilegiare soprattutto la mobilità quella più compatibile appalti pubblici l'inchiesta inguaglia tre funzionari erap e quattro imprenditori che cosa è successo è successo che in questo caso l'articolo solleva un episodio dove alcuni lavori che non erano finiti sono stati dati per finiti per finire per finiti e le dite hanno incassato i soldi ebbene le indagini sono scaturite da attività info investigativa l'iniziativa del reparto del nucleo di polizia economico finanziaria di pesaro i quali hanno interessato alcuni alcuni provvedimenti assunti dall'erap provinciale nel periodo dal 2016 al 2019 partendo da presunte irregolarità rilevate su un cantiere sovvenzionato del comune di san lorenzo in campo dove era emesso un certificato che attestava il completamento dei lavori che però insomma ha suscitato delle perplessità approfondite le indagini si è accertato che i lavori non erano affatto finiti che le ditte avevano ricevuto tutto il loro compenso insomma c'è stato qualcosa che è stato considerato irregolare ebbene a questo punto a finire nel registro degli indagati sono finiti appunto tre funzionari due dipendenti un 54enne e un 50enne fanesi e un 69enne pesarese gli imprenditori poi anche loro sono finiti sono quattro gli imprenditori che sono finiti nel registro degli indagati sono tutti operanti nel campo edile e le loro aziende hanno sede a pesaro serra santabondio casoria in provincia di napoli colli al metauro frignano in campania nella provincia di casetta insomma ci sono ora delle posizioni da definire e per quanto riguarda urbino si fa grande festa per la soluzione del problema del petriccio frutto di accordo tra comune e uni urbe università appunto di urbino ora via al nuovo sviluppo della città un voto alla unanimità è una cosa molto rara che è accaduto soprattutto per una questione che si è dilungata per molti molti anni a questo proposito l'ateneo acquisirà le aree intanto sgarbi resiste all'attacco del centro-sinistra ebbene il consiglio comunale del 10 maggio verrà ricordato ai posteri come l'assise che ha dato risposte concrete finalmente dobbiamo dire a tutta l'area del petriccio approvato l'accordo tra comune e università all'unanimità e con applauso finale ora la carlobo acquisterà la proprietà delle aree del comune e dell'asu in cambio appunto di una permuta a questo punto abbiamo terminato l'esame del corriere adriatico e possiamo aprire la pagina del resto del carlino dove vediamo che l'apertura è dedicata sempre alla questione dei parcheggi del lido e della sassonia parcheggi che subentreranno a pagamento ora sono ancora a uso libero dal 15 di giugno anche chi non risiede tutto l'anno in zona ma è proprietario di un immobile in quella zona e chi lo affitta per le vacanze potrà chiedere all'aset che gestisce i parcheggi l'abbonamento agevolato questa è una delle innovazioni che è stato che sono state introdotte creati poi cinque nuovi posti in auto blu in viale battisti e c'è veramente fame di questi parcheggi porto turistico niente paura lo assicura il vice sindaco cristian fanesi garantiremo le convenzioni nonostante il fallimento di marina dei cesari e le vice sindaco assicura nessuna revoca delle concessioni dei posti barca i posti barca continueranno a essere usati da chi li usa in questo momento e poi si parla anche del cantiere wider quel grande cantiere la cui altezza ha destato non poche perplessità nella zona rimasta scoperta ancora ad uso della cantieristica siamo pronti a dichiarato il vice sindaco a modificare il piano regolatore generale per dar modo alla wider appunto di installare questa nuova costruzione e poi anche qui abbiamo un articolo della purtroppo triste risultato dell'incontro con filisetti per quanto riguarda la scuola di metauriglia la riapertura tra virgolette forse nel 2023 nell'incontro con il provveditore è stata strappata questa concessione se ci saranno gli iscritti si recupererà la monosezione ma per il prossimo anno scolastico i bambini dovranno andare nella scuola di tre ponti quindi non c'è nulla da fare per mantenere l'attuale fabbricato in uso e poi si ritorna sul resto del carlino per quanto riguarda le proteste dei residenti di carrara il chiasso della centrale ancora continua a fare rumore a creare disagio specialmente alle case alle famiglie che abitano nei pressi di questo impianto mega impianto che dirama la corrente elettrica che giunge dal nord italia in diverse posizioni fa fuggire pure le apie addirittura così insistente così noioso così rumoroso che dà fastidio anche alla natura stazione terna a carrara i residenti chiedono compensazioni un bosco per schermare l'impianto e tante opere per il quartiere abbiamo già parlato con uno stesso articolo firmato sempre da Anna Marchetti nei giorni scorsi tutta una serie di opere compensative che dovrebbero risolvere non pochi problemi della frazione di carrara Pinacoteca e San Domenico e Pincio diventano i salotti dell'olio di qualità presentato ieri il Gran Galà che premia i migliori produttori 600 bottiglie saranno date in beneficenza e una delle novità di quest'anno del Gran Galà dell'olio è che l'olio della solidarietà non verrà dato soltanto alla messa di San Paterniano sono quelle bottiglie che vengono date dai produttori che vengono presentate al concorso ma verrà dato anche ad un'altra istituzione importante sempre sempre nell'ottica appunto della solidarietà. Marotta la giunta fossa il porticiuolo bocciata la mozione della minoranza che impegnava a predisporre il progetto di fattibilità Bonaccorsi il rappresentante più significativo dell'opposizione dice è chiaro che non c'è interesse beh di un porticiuolo a Marotta si parla ormai da tanto tempo sarebbe una struttura importante per tutta la frazione una mozione dei consiglieri di minoranza ha tentato di stimolare la giunta per realizzare questa infrastruttura ma al momento la mozione è stata respinta quindi non c'è stata possibilità di appunto ottenere questo importante approdo. E poi Marotta festeggia festeggia la sua quattordicesima bandiera blu l'amministrazione il migliore aspicio per cominciare la prossima stagione estiva. Ovviamente le amministrazioni comunali sono molto soddisfatte per la consegna di questo emblema che certifica come le località sono in sintonia con le norme non solo di carattere sanitario ma anche per quanto riguarda le i servizi che vengono dati agli ospiti e le piste ciclabili e i depuratori insomma tutto quello che può qualificare una località turistica dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dei servizi come dicevo. E poi un articolo di Spalla riporta un po' qui tutto il consiglio nuovo della BCC di Fano. Rondina riconfermato alla Presidenza continueremo ad essere vicini al territorio ed è veramente l'unico istituto di credito che ha mantenuto il suo radicamento al territorio perché poi quelli che avevano prima si sono trasformati profondamente. A Urbino ecco qui ancora il resto del Carlino interviene sull'accordo sul Petriccio che segna una svolta per quanto riguarda i rapporti tra Comune e Uniurb maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale cantano vittoria. Si è trovata l'intesa per una zona di sviluppo strategico. Il ticket per andare a funghi è giusto e atteso da tempo. È una controproposta alle proteste evidenziate ieri dai quotidiani che dicevano che introdurre il ticket a parte il fatto che era insomma una cosa così pretestuosa forse ma anche un po' difficile da rendere esecutiva perché i bar al mattino non aprivano così presto. In realtà non sarebbe così. Prosegue la polemica sulla legge regionale proposta dal Consigliere Rossi riformata recentemente appunto dal Consiglio stesso. Gabriele Bigiacchi che è una guardia ecologica dice per pagare la tassa di un euro ci sono i nostri bar aperti all'alba e quindi ci sarebbero i punti di riferimento per coloro che devono pagare questo piccolo contributo per la raccolta dei funghi. Ed ora guardate questo volto. Questo è il volto del Duca Federico. Lo vedete qui con l'occhio chiuso infatti e la scannellatura che ha nel naso lo si vede sempre di profilo da questa parte perché ovviamente quest'altra parte con quest'occhio deformato non era certo gradevole agli occhi. Ebbene questa è una ricostruzione del vero volto del Duca Federico che è stata realizzata in cera una quindicina di anni fa. A spasso col Duca Federico un'esperienza per i più piccoli anche i più piccoli vengono coinvolti nei festeggiamenti, nelle celebrazioni per il seicentesimo anniversario appunto di questo grande uomo, questo grande condottiero, uomo di cultura del Rinascimento che ha reso Urbino una delle città più grandi d'Italia in quell'epoca. Veniamo ora a qualche notizia sulla pagina di Pesaro. Vediamo che via fratti lavori infiniti dureranno ancora un'altra settimana. Una ordinanza varata dall'amministratore comunale proroga le limitazioni al traffico nella zona della rotatoria. I commercianti sono esasperati, hanno ragione di esserlo, a fare il fumo ma chi ci rimborsa dopo tutto questo trambusto, tutto questo disordine creato appunto dai lavori? È un punto interrogativo che rimane tale. Via le mascherine anche in classe. Salviamo gli ultimi giorni di scuola. È un appello di mamme, di alcuni studenti. Si può ballare tutta la notte, fare la spesa, giocare a carte al circolo, appiccicati. Perché a scuola, questo senza mascherine, perché a scuola bisogna indossare la mascherina? Ebbene è la lettera di un gruppo di mamme contro i rigidissimi protocolli anticontagio che sembrano sopravvivere soltanto nelle aule della scuola, soltanto nelle aule. Dobbiamo far capire che i loro diritti valgono tanto quanto quelli degli adulti, hanno appunto detto queste mamme. Squali Trek è un weekend di fuoco al Via Domani, il programma dell'evento che unisce Gabilce Cattolica e domenica una gara ciclistica. È una delle belle iniziative di questo weekend. Ed ora, dato che siamo negli scorci del campionato, diamo un'occhiata anche allo sport e vediamo che il Fano ha conseguito una vittoria strepitosa contro l'atletico Terme Fuggi vincendo la partita per 3-0. Strepitoso Trisse, scatto per la salvezza Granata autoritari, così vengono definiti del resto del Carlino. È ora fuori dai play-out, andranno nei play-off. Apre Tortori al ventesimo, poi la chiude Serges a dieci minuti dal termine e dopo c'è anche un'autorete di Montesi. Quindi un bellissimo risultato acquisito dai Granata. Vediamo anche la visse. La visse, se con banchini e addio, l'ipotesi è bigica da Sassuolo, dato per probabile il tecnico della primavera che potrebbe portarsi in centrocampista Uccelli e il fantasista Cumi. Ebbene, sono le prospettive che si annunciano per quanto riguarda i biancorossi. Ed era l'ultima notizia. A questo punto Massimo Foghetti vi saluta. Concludiamo qui, chiudiamo i giornali, vi diamo appuntamento domani alle ore 7. E come sempre per le notizie del giorno, ad occhio la notizia per quanto riguarda le notizie del giorno di Fano TV alle 20.30 di questa sera. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per la visione.